Le parrocchie senza preti sono ormai una realtà. La crisi delle vocazioni, il cambio dei tempi, il calo dei fedeli praticanti, quelli che frequentano regolarmente le chiese, sono ormai una realtà. E così la diocesi di Padova ha affrontato la questione, riunendo per una settimana Villa Immacolata di Torreglia, luogo perfetto per riflettere sulle cime dei Colli Euganei, un centinaio tra preti, diaconi, laici e religiosi. E' innegabile che i sacerdoti negli ultimi 30 anni siano diminuiti, abbiano un'età media alta e che avanza e non vedano alle spalle. Un ricambio sufficiente, un problema più presente al nord d'Italia che al sud, ma non esisterà mai una parrocchia completamente senza preti. Senza preti no, perché occorre sempre un prete. Per noi l'Eucaristia è il centro, senza Eucaristia non c'è nessun cristianesimo, quindi se ne fossero anche uno, questo qui noi lo dobbiamo mettere al centro perché deve celebrarci l'Eucaristia e io posso fare la comunione mangiando il corpo e il sangue di Cristo. Le soluzioni proposte dalla diocesi non mancano, preti itineranti che si dividono tra più parrocchie, ma soprattutto laici e addirittura famiglie che si prendano carico della comunità, della parrocchia e della diffusione della fede. Nonostante il calo di presenza in chiesa, le persone hanno voglia di spiritualità. Certamente c'è un calo di frequenza alla messa domenicale, diminuisce il numero di famiglie che fanno battezzare i propri figli, diminuisce il numero dei matrimoni, però noi continuiamo a pensare che c'è un senso religioso diffuso presente nelle persone che va intercettato. In una parrocchia senza preti il digitale, internet e la comunicazione a distanza possono essere di grande aiuto, ma le persone fisiche sono fondamentali, non può esistere una religione virtuale. Non parlo mai di virtualità, per me la virtualità, il virtuale non esiste, esiste il reale. In questo momento siamo sempre più chiamati a metterci la faccia. La chiesa insomma sta cambiando profondamente il calo dei preti, ma anche dei battesimi e la questione minore. La verità è che la chiesa che abbiamo conosciuto finora, durata per secoli, va completamente rivista.